14 avvisi di garanzia e primi nomi che escono nell'inchiesta relativa alla City. Sede deputata ad ospitare gli uffici della Regione. Il primo ad opporsi a questa iniziativa era stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, fondando le sue perplessità sulla spesa da sostenere per le casse pubbliche, 42 milioni di euro. Noi non siamo contro nessuno, ma riteniamo che la Regione non debba acquistare quel complesso, prenderlo in locazione, perché c'è una norma nazionale sulla spending review che impone di razionalizzare gli spazi in eccesso. Noi da uno studio che abbiamo fatto abbiamo constatato che la Regione ha diversi spazi in eccesso e quindi quel milione e centomila euro che paga oggi d'affitto ogni anno, secondo noi si potrebbe abbattere a 200 mila euro, razionalizzando gli spazi. Mentre con la presa in locazione della City dovremmo pagare circa 1 milione e 800 mila euro l'anno e in più eventualmente dopo i tre anni optare per l'acquisto, e l'acquisto ci costerebbe, compreso IVA, circa 42 milioni di euro. Allora noi diciamo che se possiamo risparmiare i soldi e pagare solo 200 mila euro, qui non si giustifica questa operazione. L'inchiesta ora delinea un quadro più complesso, se per pettinare il punto ruotava intorno alla spesa da affrontare, secondo EPM Mirvana di Serio e Anarita Mantini, il focus si sposta sul cambio di destinazione d'uso, da privato a pubblico, in un'area considerata sensibile poiché adiacente all'aeroporto e che da iniziale centro direzionale con parcheggio veniva trasformata in sede di uffici pubblici con un carico antropico molto superiore. 14 avvisi di garanzia che hanno raggiunto imprenditori, politici e dirigenti. L'inchiesta è all'inizio, sono stati inviati solo degli avvisi di garanzia, sono degli atti dovuti, ma noi riteniamo che vada fatta chiarezza e che si blocchi questa operazione, molto semplicemente, comunque vada l'inchiesta, comunque vada l'inchiesta. A noi ci interessa il risolvere i problemi dei cittadini abruzzesi e pescaresi.